Scende le scale di Palazzo Bo, a Padova, dopo la visita in rettorato, il principe Alberto di Monaco. Un incontro privato, o quantomeno, doveva arrestarlo per il regnante monegasco, che ha avuto l'occasione anche di ammirare il teatro anatomico accompagnato dalla rettrice di Daniela Mapelli. Una visita privata, quindi nessuna dichiarazione pubblica alla stampa, solo una camminata sull'Iston, come i turisti che scelgono Padova per le sue meraviglie, per partecipare ad un cocktail strettamente privato nello storico caffè cittadino. Quattro passi poi tra le piazze per recarsi a pranzo. La giornata padovana del regnante è proseguita con una visita alla Basilica del Santo, all'Orto Botanico e al VIM, l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare. La sera una cena, sempre privatissima, organizzata dal patron di Geox, Mario Moletti Polegato. Le giornate venete del principe si concluderanno domani, quando dall'aeroporto di Treviso volerà verso la Costa Azzurra.